Si è chiusa con numeri da record l'edizione 2022 di EIMA, la fiera internazionale della meccanica agricola che si è svolta a Bologna. Il servizio. Un anno indimenticabile che per EIMA, la fiera mondiale della meccanica agricola ospitata a Bologna, è da incorniciare perché la 45esima edizione è stata caratterizzata da numeri da record, oltre 327.000 visitatori di cui poco meno 58.000 stranieri. Il 2022 supera così il 2018 quando i visitatori furono 317.000. Un EIMA 2022 che si chiude con dei numeri ottimi sia in termini di visitatori che di espositori ma soprattutto di business. Abbiamo visto le nostre aziende tutte molto felici, hanno raccolti tantissimi ordini, tantissimi contatti e abbiamo visto tantissimi agricoltori contenti di venire a vedere novità, soprattutto in ambito tecnologico e della robotica, per cui siamo molto soddisfatti. Sono state 80 le delegazioni ufficiali di operatori economici organizzate dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane che hanno animato gli incontri d'affari nel padiglione delle delegazioni estere. La prossima edizione di EIMA International è fissata dal 6 al 10 november 2024, quando tornerà anche AgriLevante, la rassegna dedicata alla meccanizzazione per le culture dell'area mediterranea che si svolge a Bari dal 5 all'8 ottobre del prossimo anno. Torniamo il prossimo anno anche con la nostra fiera AgriLevante, nella quartiere fieristico del Levante, proprio perché è una terra agricola alla quale noi teniamo molto e perché è una terra che si affaccia sui paesi del Mediterraneo dove c'è tanto sviluppo per l'agricoltura. E quindi torniamo con AgriLevante.